Buongiorno e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento mattutino quotidiano con la rassegna stampa. Vediamo quest'oggi sabato 28 settembre 2024 cosa ci offrono in primo piano le prime pagine dei principali quotidiani regionali, nazionali e ovviamente anche quelli sportivi. Iniziamo subito il nostro giro sui quotidiani regionali dando uno sguardo al quotidiano La Sicilia. In primo piano la cronaca benzina sul fuoco della passione. A Catania amore conteso fra ragazzine sfocia in una drammatica faida familiare, gravemente uscionata una familiare della rivale. E poi a proposito di cronaca a Palermo nessun pentimento chiesta una pena di 12 anni per il branco incastrato dalla videosorveglianza. Ad Acate invece non viene pagato e dà fuoco ad un operaio che interveniva per mettere la pace. E poi a Mantova quell'appuntamento preso su internet per mettere una trappola, donna uccisa da un diciassettenne. E poi invece a proposito di sicurezza e ovviamente condanne alla violenza, medici e infermieri ora più protetti. Chi li aggredisce rischia fino a 5 anni e sanzioni molto elevate. E poi restando in ambito di cronaca a Medio Oriente in fiamme, raid di Israele nel cuore di Beirut, dubbi sulla sorte del capo di Hezbollah. E adesso invece parliamo di ONG e migranti, arriva la nuova stretta, il Consiglio dei Ministri, i terresnelli e ricorsi rapidi per chi sarà trattenuto in Albania. Intanto l'apertura dei centri prevista a ottobre. E poi invece un'altra emergenza, parliamo di crisi idrica, oggi il documento finale al G7 di Siracusa, aree rurali e integrazione, arriva la carta dell'agricoltura. E poi funerale delle aziende e nodo depuratore IAS, irrompono le proteste. Nel taglio superiore invece del quotidiano, ancora spazio per la cronaca, Catani in moto senza casco, inseguiti e arrestati. Ad Acibonaccorsi invece due rapine notturne compiute con la stessa modalità. E poi a Castiglione si parla di politica, comune, scioglimento prorogato di sei mesi. E poi a Taormina invece si sorride un fine settimana con il boom dei turisti. E adesso invece diamo uno sguardo al giornale di Sicilia. Anche in questo caso, in primo piano la cronaca, furti col pizzo, sette arresti. Le indagini hanno fatto luce su 26 episodi di estorsione, 28 taccheggi, 19 ricettazioni e una rapina aggravata. Nel mirino un clan criminale con base nel quartiere Zen che rubava auto e moto non solo in città ma anche a isola e capaci. Per poi chiedere da 300 a 1500 euro per restituire i mezzi. E a proposito di cronaca, la violenza al foro italico, parliamo di cronaca giudiziaria in questo caso, stupro di gruppo, chieste 5 condanne da 12 anni ciascuna. A Villa Abate invece è sequestrato un carico di hashish, fermata una coppia. E poi strage di Altavilla Milicia, il giudice afferma la figlia di Barreca non è pentita, no alla messa alla prova, è troppo breve. E poi c'è spazio ancora per la cronaca, parliamo della guerra, raid aerei, inferno a Beirut, attacco israeliano in Libano sul quartiere generale di Hezbollah. L'obiettivo era il leader Nasrallah che però sarebbe sfuggito alle bombe. Intanto Netanyahu all'ONU non ci fermeremo avanti fino alla vittoria totale. Diverse delegazioni mentre parla lasciano l'aula in segno di protesta. Rimaniamo ancora nell'ambito della cronaca. Catania donna da fuoco a una ragazza per un fidanzato conteso. E poi festa abusiva sull'isola, multati 75 partecipanti con un'ammenda da 51 euro. Sanzionati organizzatori e ospiti di una festa di compleanno. Non hanno osservato il regolamento della riserva naturale. E poi a Siracusa, SOS dall'agricoltura, il G7 e i Ciascolti servono nuovi fondi. E poi sindacato, CISL, La Piana, eletto nuovo segretario in Sicilia. Ci spostiamo adesso nel taglio superiore del quotidiano, decreto legge, aggressione ai medici, fino a 5 anni di reclusione e multe fino a 10.000 euro. E poi una vita da star, addio all'attrice Maggie Smith, era nel cast di Harry Potter. E poi spazio allo sport, tre tifosi in cella, a Palermo, disfatta rosa, Napoli, Dionisi, sotto accusa. E adesso invece diamo uno sguardo alla Gazzetta del Sud Messina. Acqua a Messina, scontro sui numeri. A giugno certificati 300 litri al secondo in meno rispetto agli ultimi anni, ma fa discutere una nota della regione secondo cui in città non c'è carenza idrica. Ma l'AMAM dimostra il contrario mostrando questi dati. E poi l'Africa protagonista al G7 di Siracusa, prima giornata del G7 dell'Agricoltura, con la partecipazione dei paesi africani. Al centro i piani di cooperazione fra i paesi. E poi la class action contro la stretto, rinviata all'udienza della causa Ponte per un errore dei ricorrenti, mancata notifica al PM, il Tribunale di Roma ha rinviato tutto al prossimo 8 novembre. E poi c'è spazio anche per la guerra, Netanyahu shock. L'ONU è una palude antisemita. Il premier israeliano senza freni sul campo e non solo, nuovi massicci bombardamenti su Beirut e minacce intanto all'Iran. E a proposito di cronaca, invece parliamo di cronaca giudiziaria in questo caso, perché si tratta di arresto anche di ferito per quanto riguarda le aggressioni in ambito sanitario fino a 5 anni di carcere e poi fondi stanziati per la videosorveglianza. Intanto anche stretta sui migranti e riforma dei flussi, l'ok nel prossimo consiglio dei ministri. E poi mondiali di ciclismo, tragica caduta, muore la diciottenne svizzera, ma le gare non si fermano e scoppia la polemica. Ci spostiamo invece adesso nella parte superiore del quotidiano dall'ospedale di Patti. Trasporto farmaci con l'uso di droni a Lipari e Vulcano, collaudo positivo. È stato collaudato dunque il sistema di trasporto dall'ospedale di Patti alle Oli e i primi test di volo lungo la tratta Patti-Vulcano-Lipari hanno dato esito positivo. Si può continuare. E poi tra Patti e Brolo, autostrada a venti, senso unico alternato e con fasce orarie. Nuove disposizioni varie a causa della chiusura della galleria Calavà. Intanto si indica una strada alternativa che è la statale 113. E poi parliamo ancora di cronaca. Catania, ragazzo conteso, donna da fuoco. Ad una 26enne si parla di premeditazione. E poi a Messina, liti a Villadante, inflitti sei anni all'accoltellatore. E infine sempre a Messina. Le indagini dopo il duplice omicidio. Traffico di droga tra Camaro e la Calabria. Il GUP decide otto pesanti condanne. Vent'anni a Costantino, nove alla Compagna. E adesso invece diamo uno sguardo alla Repubblica Palermo. La siccità riporta le lancette al Covid. Tornano le lezioni a distanza. Nel centro dell'isola l'emergenza idrica si affianca alla crisi dei trasporti dell'AST che lascia gli studenti a casa. Intanto riecco la DAD. Casse vuote nei comuni, stop all'assistenza ai disabili. Così l'istruzione diventa una conquista. E adesso diamo invece uno sguardo ai principali quotidiani nazionali dopo aver concluso il nostro giro sui principali quotidiani regionali. La Repubblica. Obiettivo Nasrallah. Ride dell'aviazione israeliana a Beriut sul quartier generale di Hezbollah. Incertezza sulla sorte del leader. Sbriciolati sei edifici. Usata una super bomba. Intanto USA azione legittima. L'Iran afferma grave escalation. Cambia le regole del gioco. Intanto l'accusa di Netanyahu. Le Nazioni Unite sono diventate una palude antisemita. E invece parlando dell'Italian Tech Week a Torino arriva la carica dei 20.000 innovatori. Tante le novità presentate in ambito tecnologico. E adesso invece diamo uno sguardo al Corriere della Sera. Raida Beirut contro Nasrallah. Avrete capito che è questa la principale notizia di oggi. In Medio Oriente rasi al suolo sei palazzi. Nella capitale libanese il premier israeliano contesta l'ONU. Una palude antisemita. Afferma bombe sul quartier generale di Hezbollah. Voci sulla morte del leader. Intanto Netanyahu afferma si va avanti. Questa la principale notizia. Quest'oggi intanto si parla anche dell'incontro tra l'ex presidente USA e Zelensky. Parliamo dunque di Trump. Di Trump ha lavoro per l'accordo. Insieme è già tanto. Poi c'è spazio invece per la cronaca ciclismo. L'elvetica caduta in discesa. Polemica sui soccorsi. Il sogno spezzato di Führer morta soltanto a 18 anni al mondiale di ciclismo. E adesso invece diamo un'occhiata alla stampa. Quest'oggi in primo piano. Anche in questo caso la furia Netanyahu su ONU e Libano. Il primo ministro israeliano al consiglio di sicurezza conferma il no alla tregua. La Turchia lascia l'aula. Accusa le Nazioni Unite. Palude antisemita e ordina il bombardamento su Beirut. L'obiettivo è Nasrallah. E poi si parla anche della magia di Maggie. Addio a Maggie Smith. Due premi Oscar e il trionfo di Harry Potter. E adesso invece diamo uno sguardo al giornale. Stretta anti-evasori. Codice identificativo per gli affitti brevi. Parliamo di politica ed economia. Queste le mosse del governo. Al via la Maxibanca dati per stanare chi non paga le imposte sulla casa. E a proposito di decisioni del governo. Nuovo decreto legge sicurezza. Violenze negli ospedali. Sì all'arresto indifferita. Reclusione fino a 5 anni. E poi c'è spazio anche per la cronaca. Bombe sui bunker di Beirut. Morto il capo di Hezbollah. Questa notizia trapelata secondo i media israeliani. E adesso invece diamo uno sguardo al fatto quotidiano. In primo piano anche in questo caso Netanyahu. L'uomo solo al massacro. Beirut. Bibi parla all'ONU. La sala si svuota. Poi ordina un'altra strage. Obiettivo Nasrallah. 15 tonnellate di bombe su un rione. 400 dispersi. Il leader di Hezbollah però da quanto trapela invece da queste notizie sembrerebbe essere al sicuro. E adesso invece diamo uno sguardo al messaggero. Siamo quasi giunti al nostro giro di boa di quest'oggi. Sui quotidiani ovviamente nazionali. Per poi spostarci su quelli sportivi. Il messaggero in primo piano anche in questo caso la guerra. Colpito il cuore di Hezbollah. Superbomba di Israele sul bunker dei miliziani. Giallo sulla sorte di Nasrallah. Intanto Netanyahu all'ONU. Palude antisemita. E poi l'incontro. Trump vede Zelensky. Medierò con Putin per una pace equa. E poi si parla di misure del governo. Abbiamo detto decreto legge e sicurezza per quanto riguarda le aggressioni in sanità. Abbiamo parlato della stretta sui migranti. Della stretta sugli affitti per evitare le evasioni. E poi arrivano anche le misure del governo per la natalità. Bonus mamme anche oltre il 2026. Potenziamento dell'assegno unico. E poi migranti stretta sui voli delle ONG. Ne abbiamo parlato prima. Nell'Unione europea tornano le frontiere chiuse. Il giro di vite nel decreto legge flussi che però slitta. Intanto Vienna al voto afferma noi una fortezza. E poi via libera al decreto fino a 5 anni di carcere e violenza sui medici. Ok all'arresto in differita. E adesso invece diamo un sguardo al quotidiano libero. Davano la caccia alla famiglia Crosetto per colpire il ministro. Striano e compagnia creavano un dossier perfino sul figlio 22enne. Salvini afferma subito una commissione d'inchiesta. Quindi politica quest'oggi in primo piano sul quotidiano libero. Iniziamo adesso invece il nostro giro sui principali quotidiani sportivi. Allora diamo uno sguardo alla Gazzetta dello Sport. Ai rossoneri vengono i 5 minuti. Il Milan vola alto. Tre gol in un lampo a San Siro. Batte Lecce va in testa per una notte col toro. Fonseca ferma da Morata ad Abram. Energia contagiosa. Da una parte il Milan. Dall'altra invece c'è l'Inter. Oggi alle 15 in casa dell'Udinese. Inzaghi c'è la Tula per ripartire. Invece alle 18 Genova Juventus. Motta cerca i gol a porte chiuse. E poi c'è spazio purtroppo anche per la cronaca. quest'oggi ovviamente in ambito sportivo tragedie ai mondiali di ciclismo. Ciao Muriel la 18enne svizzera non ce l'ha fatta. È deceduta dopo parecchi giorni. Ovviamente dopo l'incidente avvenuto proprio ai mondiali di ciclismo. E adesso invece diamo uno sguardo al Corriere dello Sport. Il Milan travolge 3 a 0 il Lecce. Primo in classifica. Comanda Fonseca. Altra vittoria dopo il derby. Morata, Teo Hernandez e Pulisic decidono con tre gol in cinque minuti. La vetta mancava da oltre un anno. E poi c'è Genova Juve a porte chiuse per quanto riguarda gli scontri che hanno coinvolto i tifosi del Genova e anche quelli della Sampdoria nel caso del derby di Coppa Italia. Intanto Motta della Juve rivela la formazione. Tiago apre. Si rivede Danilo e il ventenne Rui parte dall'inizio. Blaovic con Ildiz e Nico ancora fuori invece Douglas Lewis ha provato intanto il bilancio. Rosso di 199,2 milioni. E poi c'è l'Inter che cerca il primo successo fuori casa in casa dell'Udinese alle 15. Lautaro provato con Turam. Inzaghi voglia di blitz. E poi Bologna. Serate d'onore. Cinque giorni caldi per Italiano. Prima Gasperini e poi la sfida di Anfield mercoledì. E poi nel taglio inferiore si parla di basket. Oggi tre anticipi. Via la Tess Virtus a Trapani. E poi c'è spazio purtroppo anche per i mondiali di ciclismo. La tragedia che ha coinvolto Muriel Führer. Morta dopo una caduta durante proprio le prove del mondiale. E adesso un ultimo sguardo al quotidiano tutto sport. Anche in questo caso in primo piano Milan. Ribaltone di testa. Morata, Teo, Pulisic tre gol in 4 minuti e 30 secondi. Primo posto col Toro. Lecce travolto. Il successo sull'Inter ha dato slancio ai rossoneri confermando che la crisi è alle spalle. Show dello spagnolo che esulta con i figli. Intanto Leao capitano dopo le polemiche. Rivincita di Fonseca. E poi ore 18. Genova Juve a porte chiuse. Motta stupisce dando la formazione in anticipo con tante novità. Ma non vi dico come giocheremo. Tiago ve le do io le sorprese. Questo è il titolo scelto. Per in importa. Il giovane Rui in difesa con il rientrante Danilo. Che ovviamente riacquisisce la fascia di capitano. In mezzo Fagioli e Meccenni. Ancora fuori Douglas. Confermato l'attacco in crisi. Copmeiners ansia da primo gol. Tensione a Genova intanto dopo la guerriglia nel derby. E poi ovviamente c'è anche spazio per l'Inter. Inzaghi con gli sconfitti del derby. Inter che perde. Non si cambia. Fatemi vedere. Audine Auto soltanto. Barella per KO. Pavard e Dumifry che rinnova. Riecco intanto Bissec. E poi c'è spazio anche per il Torino. In questo momento solo in vetta insieme al Milan della classifica. Adams passione. Toro convinto dalla storia stregata dai tifosi. Siamo giunti al termine del nostro consueto appuntamento mattutino quotidiano con la rassegna stampa. Io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi auguro buon proseguimento di visione sui nostri canali.